Carissimi amici, sono PaninoTube e oggi torniamo con la serie di cloni brutti di Scary Teacher In tanti mi avete chiesto di tornare qua, in tanti mi avete chiesto di tornare a sclerare con i cloni brutti Ed eccoci qua, per voi ho trovato ben tre cloni brutti di Scary Teacher Non vedo l'ora di provarli qua insieme a voi, ma prima di cominciare mi raccomando Lasciate qui sotto tantissimi like, condividete il video, iscrivetevi al canale con la campanella attiva Se volete se li salutate qui sotto nei commenti basta che me lo chiedete E io vi saluto direttamente qui sotto nel commento Oppure se volete farmi qualche domanda io cercherò di rispondere alla maggior parte di tutti i commenti Ma adesso direi di partire, direi di cominciare subito Per questo primo clone vi faccio vedere prima lo screenshot che mi compare sul Play Store quando provo a scaricarlo Allora questo è il primo screenshot, uno pensa Ma ma che bello, ma c'è la maestra, c'è la maestra di Scary Teacher Ma adesso preparatevi bene, guardate bene qual è realmente il gioco associato a questo screenshot, guardatelo perfettamente Ok questa è la schermata d'inizio, no? Così no? Scary Teacher spiaccicato in grande con uno sfondo che sembra più lo sfondo di un gioco horror Uscito da quei film degli anni 80 Va bene, tocchiamo Play, vediamo qua cosa c'è da fare Livello 1 con una chiave Selezione livello, va bene, facciamo qua il primo livello E vediamo qua questo gioco com'è Proviamo a vederlo, che sta caricando Vediamo, vediamo Dai che sono curioso Obiettivo Miss Dolly Vive nella sua casa In questa casa Insegnagli una bella lezione E vabbè, solite cose, no? Ma prima devo aprire la sua porta Ah, quindi Devo prima aprire la porta della maestra Altrimenti qua non si fa nulla Ma aspettate Ma questa non è la casa di Scary Teacher Questa è la casa di Scary Teacher con le texture cambiate È la stessa casa Poi non vorrei dire, ma perché quando alzo la testa si vedono gli occhiali? Cioè, hanno messo qua la skin di Nick Ma non hanno equilibrato bene No, aiuto, aiuto, aiuto E qua come faccio a scappare? Come faccio? Stavo soltanto chiacchierando Su, su, salta bene qua Perfetto, perfetto Dicevo Non hanno neanche equilibrato bene La visuale tra l'altezza di Nick e gli occhiali Perché sono sopra Ma non si vedono più Ok, ora sono tornati gli occhiali di Nick Devo trovare la chiave per poter entrare in casa Ciao, ciao maestra Ciao, via, via, via Salta, salta No, non ha saltato sopra i ciespugli No Il personaggio è quello di Nick Però la maestra effettivamente non è la stessa Cioè, scusate Ma sullo screenshot io ho visto una scena di un gioco E qua mi ritrovo un altro gioco Ma cos'è sta roba? Ma perché? Proprio clone fatto Copiata la casa della maestra La casa è la stessa di Scary Teacher Uguale Ok Qui devo trovare qualcosa La chiave per poter aprire Qua è il lucchetto Dove si trova la chiave? Chiavetta, dove sei? Ciao, ciao, ciao Via, via, via Aiuto, aiuto, aiuto C'è una maestra che mi rincorre Uh Qui c'è qualcosa che si illumina Ok Presa la chiave Ma aspettate Ma qui è bloccato Qui tecnicamente io non ci potrei andare Ma Così per curiosità Ma se io salto di qua Cioè, guardate Posso andare oltre la staccionata saltando di qua Però non posso uscire fuori dalla mappa Va bene Ma io la chiave ora ce l'ho Cioè, scusate Non posso entrare dalla finestra Porta c'è che ci siamo Veloci, veloci Apri qua Perfetto, perfetto E ora mettiamo la chiave dall'interno Questo gioco secondo me è fatto così male Che magari già da qua posso aprire Lucchetto No Non me lo fa aprire Non me lo fa aprire Almeno questo l'hanno fatto bene Almeno, no? Perché con questi giochi Sapete, no? Nulla è prevedibile Niente, mi sa che devo per forza fare il giro Mi sa che devo fare il giro Che tra l'altro la maestra è rimasta bloccata fuori casa In questo modo Perché io mi sono preso la chiave per poter entrare dentro Lei non ha le chiavi per poter entrare dentro casa E quindi lei come fa ad entrare? Vabbè Muoviamoci Che tra l'altro è solo ora Mi sono accorto che c'è il tempo in questo gioco C'è il tempo No No, no, no Il tempo non mi piace Non mi piace quando c'è il tempo nei giochi Miss Dolly Ciao Ciao maestra Ok, mi ha visto Mi ha visto Facciamo andare di qua Perfetto Bravissima maestra Via, via, via Entra velocemente Apriamo sta porta Via, entra E vai Livello completato Ce l'abbiamo fatta Facciamo il prossimo livello Soltanto Poi proviamo a cambiare clone E vediamo il prossimo clone com'è Ok, Miss Dolly Sto facendo Sì, non mi interessa in realtà Non mi interessa No, forse era meglio che mi interessasse Perché adesso non ho la più palida idea Di che cosa devo fare in questo livello No Che devo fare Qualcosa No, no, no Ciao Miss Dolly Ciao, ciao, ciao Via, via, via Scappiamo, scappiamo, scappiamo Salta di qua Come si deve Perfetto, perfetto Entra dentro casa Entra dentro casa Ma che devo fare qua Non so cosa devo fare Ok, qua c'è il computer E mi ha preso E mi ha preso però Vabbè Forse è meglio leggere Non serve a niente la trappola Maestre tarocche Questa mi prende Questa mi prende Questa se mi prende Mi elimina in due secondi Ok, vediamo qua se c'è qualcosa Martello Ma con cosa distruggo Che non ho trovato Neanche mezzo oggetto Per rompere sto computer Riproviamo un'ultima volta Non ho idea di che cosa bisogna fare Proviamo a rivederli qua Cioè quella stava nel piano superiore No, mi ha visto Mi ha visto in qualche modo Non so neanche io come Ma mi ha visto Ok, qua c'è qualcosa da prendere No Cioè sto computer Non posso raccoglierlo E gettarlo a terra normalmente No, devo per forza Prendere un oggetto Oggetto che non so neanche io Cosa Quale Quale oggetto devo prendere Allora Apriamo quella porta Vediamo dentro sti stanze Sperando che quella Non mi possa vedere Che quella è capace Che mi vede pure attraverso i muri Allora Qua non c'è niente Cioè potete vedere pure voi Questa porta che neanche si apre Non si apre quella porta Qua dentro Oh Un qualcosa Un qualcosa Che non posso neanche prendere Perché non si Non si apre il mobile Non si apre il mobile Come lo prendo Come faccio È buggato il livello Non si apre qua Come faccio ad aprire Aspettate Chiudiamo prima sta porta Ma mi sa che si è proprio Buggato il pulsante Ok Cosa Aspettate Ok Ora si è aperto Ora si è aperto Quella da dove mi ha visto Ok Preso il martello L'abbiamo preso Ora possiamo smasciare Il computer Dopo tre ore E vabbè ma da dove mi vede Quella da dove mi ha visto Poi scende e risale Scende e risale Sta maestro Ok Se sto qua dentro Dite che mi vede E mi ha visto Guardate dalla telecamera Come mi Mi sta rincorrendo Come se mi avesse visto Realmente Come ha fatto Come ha fatto Sali ste scale Sali da ste scale Oh E dai E dai su Oh Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Oh Dai Tre ore per rompere Un computer Ma potevi raccoglierlo E gettarlo così Per forza Un martello da trovare Va bene Direi di fare una cosa Passiamo Al secondo clone Un clone molto molto Particolare Anche in questo Secondo clone Prima di scaricarlo Mi dava questo screenshot Con la maestra Scary teacher Tutta quanta vestita Con l'abito blu Ma sarà realmente così Questo clone Sarà veramente così Lo scopriremo Adesso insieme No vabbè Io non ci posso credere Non ci posso credere Sul play store Mettono l'immagine Di scary teacher Scaricate il gioco Ed esce fuori Un'altra maestra Un'altra persona Cos'è questa La maestra Dei capelli dritti Tagliati Maestra tagliata E questa Ma chi è questa Ma da dove è sbucata Questa è ancora più tarocca Una maestra più tarocca Di questa Non l'ho mai vista Ma poi tutte quante Con la stessa musichetta Di sottofondo Va bene Facciamo modalità carriera Anche qua A livelli simili A quanto pare Trova la chiave E rompi laptop Il pc Cioè ma Ma veramente Ma perché Ma perché Cioè qui fanno I cloni dei cloni Questo è un clone Di un clone Oppure quello di prima Questo è Miss Dolly Aspettate Quella di prima Come è già che si chiamava Non mi ricordo Va bene Tocchiamo play Devo entrare dentro casa sua Però c'è da dire una cosa Ora che vedo qua La casa Almeno è diversa Almeno hanno avuto L'accortezza Di fare una casa Diversa Non la stessa Di scary teacher Ma guardate qua La maestra Non mi vede Non mi vede Cioè io mi faccio Vedere davanti E non mi vede Ma no Ma cos'è sto gioco Ma cos'è E qua E qua devo trovare La chiave Per poter entrare Esploriamo un po' Qua il cortile No Alcune volte Alcuni mi chiedono Di vedere il cortile Anche com'è Vediamolo Vediamolo Anche qua c'è il tempo Comunque Qua c'è una parte Di marciapiede Che non si sa il motivo Se salto di qua Si vede un bel panorama Di montagne Quindi ci troviamo In cima alle montagne In questa casa Cos'è sta linea Qua Ma come hanno fatto Sto sfondo Guardate sta linea Che passa qua Ma Veramente Allora La casa Non è la stessa Di quella di Scary teacher Però Quanto pare Cerca di Emularla Cerca di imitarla Anche qua dietro C'è la piscina Posso aprire la porta Da dietro E posso entrare Da dietro Cioè ma seriamente Come mi fanno cercare Le chiavi Quando già posso entrare Tranquillamente Come se nulla fosse Guardate Sono dentro casa Sono dentro La casa della maestra Ma no Ma seriamente Ma dai Vediamo se posso aprire Da fuori Da dentro No Non me la fa aprire Non mi fa aprire la porta Qua Qui vedo attraverso Vedo attraverso i muri Non ci posso credere Non ci posso credere Poi le scale Come quelle della maestra Però no Qui c'è un bel televisore Qua davanti Beh Almeno la casa L'hanno fatta nuova L'hanno fatta loro Nessuna casa clonata Nessuna casa copiata Vabbè Usciamo qua Apri qua sta porta Usciamo di qua Da questo lato Lì c'è già la porta aperta Andiamo a raccogliere sta chiave Così possiamo Praticamente Proseguire Almeno fare il primo livello Poi proviamo a fare il secondo livello Vediamo se ce la facciamo Facciamo solo attenzione a Miss Dolly Vabbè ma tanto Quella maestra manco mi vede Ce le passo davanti E neanche mi vede Allora Raccogliamo qua Qui c'è la chiave Che la vedo bella Illuminante Su raccogli E raccogli però Raccogli Prendi sta chiave Non me la raccoglie Cioè non compare neanche il pulsante Per raccogli Oh Non si premeva il pulsante Per raccoglierlo Su Apri qua la porta Usa qua la chiave Livello completato Cioè ero entrato già prima Dentro casa No devo per forza Passare da lì Altrimenti il gioco Non mi dice che è superato Ma dico io Ma se dovete fare Questi livelli del genere Ma almeno Assicuratevi di chiudere Anche le altre porte Altrimenti Qua livello si fa Non ha senso in realtà Proprio il livello stesso La logica del livello Prossimo livello Cos'è qua Dobbiamo rompere Cioè anche lei Sta facendo un esame Molto difficile Dobbiamo romperle il computer Cioè insomma Proprio la fantasia No di questi giochi La fantasia stessa Tra l'altro Di Chloe Di Scary Teacher Ce ne sono un sacco In questo gioco Si in questo gioco Vabbè Sti giochi mi fanno pure Dimenticare come si ci parla Sul Play Store Ci sono un sacco di giochi Simili a Scary Teacher Ok devo trovare il martello Ma tanto Miss Dolly Neanche Mi guarda Ok Qua c'è il computer Sta suonando Qua in modo ininterrotto Non smette più di suonare Aiuto Mi sa che per poco Devo togliere il volume Perché Non si riusciva proprio a giocare Con sto volume qua Che va avanti Vabbè Cerchiamo qua il martello Dove si trova Cos'è sto bagno Bagno più brutto di questo Io non l'ho mai visto Ma il gabinetto enorme Enorme il gabinetto Ma guardate Ma Ma seriamente Ma seriamente Cioè così alto Che non ci arrivo Neanche saltando Ah no Ma allora Guardate bene la maestra Quanto è grande Un gabinetto per Una maestra del genere E' enorme E' enorme Ma no Ma dai Vediamo qua se troviamo qualcosa In questa stanza Niente Qua passo pure in mezzo agli armadi No Guardate l'armadio Io entro dentro l'armadio Ci sono le stesse texture Della carta da parate Ma non ci posso credere Io non ci credo veramente Che abbiano pubblicato Un gioco del genere Non ci posso credere Vabbè mi sa che sto livello Non riusciremo a completarlo Forse si perché ho appena Visto illuminarsi dall'alto Quindi andiamo a prendere Il martello che ho appena trovato Va bene Bene o male Qua si illuminano le cose Vediamo qui sopra com'è No Di nuovo lo stesso mobile Che non si apreva Sempre lo stesso mobile Oh Adesso si è aperto Guardate Il mobile è lo stesso Lo stesso mobile del clone Che abbiamo visto prima Uguale Uguale Qua posso saltare di qua Vabbè Fortunatamente qua Non ci sono le energie Quindi posso saltare Dove Come Quando voglio Andiamo qua Rompiamo sto computer Su Però Bacci per favore Ora Ok Computer rotto Me ne posso andare via Perfetto Beh Almeno lei non si è messo a piangere Come l'altra maestra Questa proprio così No Mamma mia Mamma mia Va bene Direi adesso di passare All'ultimo clone Al terzo clone Di Scary Teacher Questa volta preparatevi Perché potrebbe essere un clone E Sono tutti cloni brutti Quindi Non vi anticipo nulla Sicuramente Avrete già capito Che tipologia di clone sarà Ecco qua Hello Scary Teacher 3D Aspettate Sta musica però Non mi piace Che musica è Che poi mi arriva il copyright Hello Scary Teacher 3D Proprio per unire Hello Neighbor E Scary Teacher 3D Quindi il clone Che vuole essere due cloni In contemporanea Ma dai Ma dai Guardiamo Qui bene la maestra C'è lì che sta sistemando Dei fogli Lì dentro Tocchiamo play Facciamo qua il primo livello Beh almeno qua La sistemazione di livelli È diversa Almeno su questo Un punto a favore Solo per come hanno sistemato i livelli Ma soltanto un punto Questo non significa che Darò tutto quanto punteggio completo Ecco qua Ah ma c'è pure un filmato Che devo fare Ma che filmato hai Due inquadrature così al volo Sono state E ora Che devo fare Ok devo Seguire il punto verde Nella mappa Prendere la La pallina di carta E andare nella classroom Dopodiché lanciarla Alla maestra Va bene Va bene Ciao No vabbè Però guardate Ci sono più alunni In contemporanea Questa è la scuola Non è la casa di scheritici Anche se sta scuola Mi sembra di averla già vista In un altro clone Non vorrei dire Ma mi è molto familiare Sta scuola C'è pure il bidello Che spazza Ciao bidello Ciao Tutto bene Tutto bene Gli passo in mezzo Gli passo in mezzo Qua ci sono pure i compagnetti Di classe Ciao compagna Allora Hai studiato per stasera Hai fatto i compiti Per stasera Come per stasera È giorno Quindi tecnicamente No no Stasera non c'è nessun compito Posso suonare il fischietto Ma è bellissima sta cosa No io sta scuola L'ho già vista L'ho già vista Mi è familiare L'avrò già vista In qualche altro clone Vabbè Seguiamo qua Dalla mappa Il punticino verde Ecco qua Insomma Me l'hanno preparata loro La pallina di carta Me l'ha preparato qua Sto bello di mamma Va bene Raccogliamola E ora devo andare Nella classe L'ancialla La maestra Ok Corriamo velocemente No non si può correre Non si può correre Ma questi compagni di classe Sono tutti uguali Tutti con la stessa Capigliatura sono Ma che Ma tutti con gli stessi capelli No No ma dai Ma allora Sta classe però Dove me l'hanno messa Ho capito dove abbiamo visto Questa scuola L'abbiamo vista In un clone Di Hit il clown E Ice cream Nel senso Ho portato un po' di tempo fa Un video dove Hit il clown Diventava un gelataio E c'era questa stessa scuola Solo che lì era In una modalità Più horror Più creepy Qua ovviamente Deve essere tenuta in ordine Che poi vabbè Capirai Che grande scuola C'è Aule senza banchi Ci sono La prima scuola Senza banchi Ma che bello Dov'è che fanno lezione questi Dove si metteranno a fare lezione C'è qua Guardate È vuota Non c'è niente Neanche una lavagna Questi a terra Si mettono a studiare Scusa amichetto Toccato tutto Si è buggato il gioco Tocco next Tocco next E non va avanti Tocco menu Allora Ah devo tornare nel menu Dopodiché fare il livello 2 Se no non me lo fa partire Cioè insomma Stavo andando in aula Per studiare La maestra mi viene così A colpire a caso Ok Quelle Che sono quelle due persone Una è la maestra E l'altra chi è Va bene C'è lì un hamburger Che devo fare Ah Devo prendere il suo hamburger E correre Va bene Va bene Questa telecamera Tutta quanta rimbalzante Ma com'è Ma com'è Ma seriamente Ma perché fanno Sti cloni così Ma perché Io non ci posso credere Che fanno realmente Dei giochi di sto tipo Vabbè Prendiamo il suo hamburger Che non è di qua Ma dov'è Ma sono Dove c'è il pallino Ah no Forse qua devo andare Forse in quest'altra aula Proviamo a vedere Hamburgerino Eccolo là Abbiamo trovato l'hamburger No no Via 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 Corriamo corriamo Mamma mia La maestra mi segue Mi segue Guardatela qua Guardate Ma invece l'altra chi era Proviamo a vedere chi era l'altra Forse un'altra maestra era Ah sì Via No aiuto Aiuto Lasciatemi stare Lasciatemi stare Sto sbagliando Punto dove andare Due maestre Mi stanno inseguendo No l'altra Ok tutte e due Due maestre Uguale Cambia soltanto il vestito Ma sono uguale Va bene Ciao maestra Vi saluto Vi saluto Qui cosa c'è un'altra maestra E voi che fate lì dentro Non c'è nessuno Non c'è nessuno Che sta insegnando Le maestre mi stanno inseguendo qua Ma cosa volete da me Aiuto Vabbè sì L'ho preso gli hamburger Quindi è meglio andare via Ok Livello completato Livello completato Tocchiamo next E si è bloccato qua Si è bloccato qua No Va bene dai Direi di fare una cosa Direi per ora di fermarci qua Con questo video Fatemi sapere cosa ne pensate Ma soprattutto Fatemi sapere qual è il clone Che più vi è piaciuto Fatemi sapere qual è il peggiore clone Fra questi tre Che abbiamo visto Spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spolliciate E così vedete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo In un prossimo video E come sempre Vi auguro una buona giornata Buona serata E una buona notte Ciao a tutti